Salve ragazzi, loda e gioia a tutti! Ora dovete rispondere a queste domande. Rispondendo a due domande correttamente prenderete il Santo Eccellente. Se risponderete solo ad una, prenderete Ottimo. Allora, le due domande sono queste. Riguardano le virtù. Le virtù umane. Quali sono le quattro virtù cardinali? La seconda domanda riguardo le virtù teologali. Le virtù dell'anima, della vita spirituale. Ecco, quali sono le virtù teologali? Rispondete e prenderete il Santo Eccellente. Vi canterò una canzoncina molto semplice. Io ho un amico che mi ama, mi ama, mi ama. Io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù. E andiamo nella vigna a lavorare nella vigna del Signore. Salve ragazzi, buona giornata, lode e gioia. Un abbraccio.